Sono Carolina Maffezzoni, direttore sociosanitario della TS Valpadana, ormai da un anno quasi. Quella che vi vado a presentare oggi è un'iniziativa che la Direzione Generale per la Famiglia della Regione Lombardia ha presentato come progettualità da rivolgersi a sostegno delle famiglie nell'area di quelle iniziative che sta promuovendo a favore della famiglia, della coppia, della genitorialità. Questa iniziativa è sostenuta da un finanziamento su due anni per un totale di 200 mila euro rispetto al quale noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse ancora aperta e che vogliamo estendere a tutte le aree distrittuali della nostra TS proprio per poter rispondere meglio, in maniera più capillare, ai bisogni specifici dei diversi territori. Bisogni che si insinuano nell'area proprio delle famiglie più in generale, di orientamento rispetto alla rete dei servizi, di sostegno alla genitorialità e anche attraverso iniziative di tipo laboratoriale.